Buonasera e benvenuti ad Ancora Tg, è ancora viva in città l'impressione per l'imponente operazione dei ROS che ha portato all'arresto dei 5 giovani spoletini accusati di associazione eversiva. Trappellano intanto le prime intercettazioni ambientali in possesso degli inquirenti, ampi stralci sono stati riportati questa mattina dal Corriere della Sera ed è a seguito proprio di queste intercettazioni ambientali che si registra l'intervento di poco fa dei senatori Brutti e Ferrante, i quali esprimendo piena fiducia nell'operato della magistratura sottolineano come sia necessario fare chiarezza sulle reali intenzioni dei 5 indagati che, dicono i due deputati, potrebbero avere come principale colpa quella di essere un gruppo di perditempo più che di pericolosi criminali. Intanto i legali dei 5 giovani si preparano all'interrogatorio fissato per domani mattina al carcere di Capanne a Perugia e cambiamo argomento per tornare alla crisi della Minerva. È durato più di 3 ore l'incontro fra i sindacalisti di Fim, Fium e Wilm e il vertice della Gervasi Robotica e incontro che si è tenuto alla presenza anche di due rappresentanti della RSU della Minerva. I sindacati si sono dichiarati soddisfatti di questo primo approccio anche se dicono che ci sono dei punti da chiarire meglio. Si terrà invece domani il tavolo richiesto dall'imprenditore Luzzi, titolare della Tecnocar, altra azienda interessata a rilevare la industria Minerva. Voci non confermate, vorrebbero però e questa è una notizia dell'ultima ora, altri due gruppi interessati ad acquisire la società di Santo Chiodo, in particolare ci sarebbe l'interesse della società Menci di Arezzo e la Cardi di Bologna. E ci spostiamo a Cascia dove venerdì prenderà il via la settima mostra mercato dello Zafferano, presentata alla stampa dal sindaco Gino Emili e dal presidente dell'associazione Gianluca Polidori. Potremo degustare, ha detto Emili, prodotti curati con una spezia che fino a qualche anno fa non era presente neanche sui tavoli dei ristoranti del territorio. E passiamo allo sport, è ancora l'atleta spoletino Pier Giorgio Conti, già campione del mondo di Duathlon a far parlare di sé. Dopo aver conquistato il circuito dell'Acciaio a Terni, Conti ha raggiunto la seconda posizione nella Corrigubbio, gara che si è snodata su un percorso di 21 chilometri. Ora non resta che l'appuntamento più importante, ovvero la Maratona di New York, alla quale Conti prenderà parte con i colori della Olio Monini. Ed anche per questa sera è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.